Installare una centralina fissa per monitorare i livelli di smog e polveri sottili delle auto lungo via Mazzini è quanto richiesto all'amministrazione comunale dal Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. Alla luce dei dati emersi dai monitoraggi atmosferici, i dati più preoccupanti sono stati registrati nei giorni di fine settimana in via Mazzini, si legge nella nota. Chiediamo all'amministrazione di attivarsi in merito al fine di evitare le vie legali nei confronti del Comune di Battipaglia per attentato alla salute dei cittadini.